Dimmi tua. Sì. Allora io sono Chicca, Francesca Chicca, che così tanto per fare una cosa nuova sono accoppiata con Diego Ruiz, che ormai questa cosa va avanti da tanti anni, almeno 15, sì almeno 15, però in questo spettacolo divorziamo nel senso che non ci sopportiamo più, quindi ci stiamo lasciando e lui ha questa nuova fidanzata che è appunto Maria. In realtà non abbiamo grossi problemi io e lui, però lui insiste per vedermi un'ultima volta per capire se sta facendo la cosa giusta e decide di portarmi nella sua casetta di campagna, che io detesto, mi fa schifo da sempre, però adesso che Maria ci ha messo le mani e quindi ha cambiato l'arredamento, mi fa ancora più schifo, ma insomma il mio personaggio già da subito si capisce che non tollera tanto la nuova fidanzata e poi non posso dire altro perché appunto gli sviluppi li vedrete nello spettacolo e per quanto riguarda me, che devo dire, questo è l'ennesimo spettacolo che faccio con Ruiz, abbiamo avuto una carriera a Volgore, eravamo fidanzati, no, lui, amici, poi fidanzati, poi sposati, abbiamo quasi avuto un figlio, adesso ci separiamo, siamo andati in viaggio in barca e adesso ci separiamo, io ho detto che vorrò fare lo spettacolo in cui lui muore e io vado al funerale. Grazie mille. Grazie.